Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne Finisce con un nulla di fatto il processo per la discarica nell'ex stabilimento Montedison di Bussi in provincia di Pescara La quarta sezione penale della Cassazione infatti ha annullato le 10 condanne agli ex manager emesse dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila il 17 febbraio del 2017 In particolare quattro degli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto Per altri sei la Corte ha invece dichiarato prescritto il reato di disastro ambientale riconosciuto invece in Appello Strada in salita anche per i risarcimento alle parti civili Perché la Cassazione ha revocato anche le statuizioni civili Ovvero sia ha provvisionato appunto le provvigioni sulla base delle quali Le provvizionali scusate sulla base delle quali le parti Tra cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Ambiente e la Regione Oltre alla provincia di Pescara e ad alcune associazioni ambientalisti e due privati Potrebbero basare la causa in sede civile La decisione è stata appresa con sconforto dai legali di parte civile E quindi appunto si preannuncia come dire un dibattito proprio su questa sentenza Intanto ad un anno dall'avvio dell'inchiesta sul sistema Gran Sasso In seguito ai diversi sversamenti di sostanze inquinanti registrati nel corso del tempo La Procura della Repubblica di Teramo ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini Iscrivendo nel registro degli indagati 10 persone tra vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Strade dei Parchi e Ruzzoreti Tutti accusate di inquinamento ambientale Ad essere raggiunti dall'avviso di garanzia il Presidente dell'INFN Fernando Ferroni, il Direttore dei Laboratori Stefano Ragazzi Il responsabile del Servizio Ambiente dei Laboratori Raffaele Falcone Il responsabile della Divisione Tecnica dei Laboratori Dino Franciotti E il Presidente anche di Strade dei Parchi Le accuse fanno riferimento a reati ambientali emersi nel corso delle indagini 11 milioni di euro a disposizione delle imprese turistiche abruzzesi Attraverso il finanziamento della legge 77 del 2000 Che prevede interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore Tra gli obiettivi del piano c'è quello di favorire investimenti Per l'aumento degli standard di qualità e la riduzione del rischio sismico C'è anche poi l'accessibilità per i turisti con disabilità motorie e sensoriali Il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente Il programma operativo 2018 il cui bando sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo E' stato illustrato dal Presidente Vicario della Regione Giovanni Lolli E dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio Destinatari degli interventi sono gli alberghi con almeno 7 camere Le residenze turistiche, alberghiere con almeno 7 unità abitative Gli alberghi diffusi, i campeggi e i villaggi turistici Le case per ferie, le residenze in campagna, gli ostelli della gioventù I rifugi montani ed escursionistici, gli stabilimenti balneari E si avvia a soluzione la vicenda che riguarda il Teatro Marruccino di Chieti Questo almeno secondo la Regione dopo la protesta dei vertici per la mancanza dei fondi Il Presidente Vicario della Regione Giovanni Lolli ha confermato Che ci sarebbero i fondi per il teatro fra le più importanti istituzioni culturali d'Abruzzo I fondi ci sono, ha detto Lolli, e arriveranno Anche se è giusto ricordare che il Marruccino con le giunte Chiodi e D'Alfonso Appunto erano arrivati 500.000 euro Con D'Alfonso poi ulteriori 200.000 euro Appunto per festeggiare il bicentenario Con il Presidente D'Alfonso che annunciò che questi fondi avrebbero riguardato due annualità E poi insomma la querelle di questi giorni Nella quale si scrive anche la protesta comunque confermata Della situazione dei contribuenti e del CIPAS guidato da Donato Fioriti Che appunto protesta contro la chiusura dei battenti del teatro Non per suo demerito ma per i mancati trasferimenti economici Previsti e non assegnati da parte della Regione Abruzzo Lo dice appunto Donato Fioriti che è il Vice Presidente Nazionale Vicario di Unaga FNSI Insieme a Ugogliezzi Vicario Arga Abruzzo E Ernesto Donofrio Direttore dei contribuenti Abruzzo Che hanno annunciato comunque per domani alle ore 10 Un sit-in di solidarietà davanti al Teatro Marruccino di Chieti Nei chiacchiere stanno a zero, sottolineano Fioriti, Iezzi e Donofrio E i tempi si sono conclusi Il teatro lirico Marruccino, Perla d'Abruzzo Viene umiliato e portato alla chiusura Affermano ancora E' inaccettabile, non giustificabile ed autolesionistico per la Regione intera In ogni caso, conclude Fioriti, che fa sapere di voler certezze e non annunci Porteremo ai livelli nazionali quanto accade a Chieti e in Abruzzo E stiamo valutando un'azione specifica di sollecito e di fida verso la Regione Presa in esame dal team legale congiunto Arga Abruzzo-Contribuenti Abruzzo Coordinato dagli Avvocati Luigi Di Alberti e Patrizia Pennese Speriamo però di non dover arrivare a tanto E ci affidiamo al momento alla sensibilità del Governatore Luciano D'Alfonso A cui rivolgiamo l'appello Oggi è sabato 29 settembre La Chiesa celebra la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele Nell'Arcidiocesi di Chieti Vasto In Vasto si celebra la solennità di San Michele Arcangelo Patrono della città di Vasto e dell'Arcidiocesi E siamo alle previsioni del tempo Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa Cielo sereno fino a tutto il pomeriggio Poco nuvoloso nelle prime ore della sera E coperto in tarda serata con temperature da 16 a 23 gradi E venti da deboli e moderati E nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino Poco nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali Nuvoloso nel pomeriggio e nelle prime ore della sera E coperto in tarda serata con temperature da 16 a 21 gradi e venti deboli Domani si prevedono sulla costa Cielo nuvoloso fino a metà mattino E sereno nel resto della giornata Con temperature da 14 a 21 gradi e venti deboli E nelle zone interne cielo sereno fino a tutto il pomeriggio Poco nuvoloso nelle prime ore della sera E nuvoloso in tarda serata Con temperature da 13 a 18 gradi e venti deboli Il mare è previsto da poco mosso a mosso sia oggi che domani Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario Da Massimiliano Spiriticchio in studio Natasha e da tutti noi di Radio Speranza in Blu La radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne A voi tutti grazie per averci seguito Buona giornata Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie A cura della redazione giornalistica Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie